Questo istituto vede messi insieme il ITTL, quindi Tecnico Trasporti e Logistica Luigi Rizzo, per intenderci il cosiddetto nautico, una delle scuole più prestigiose d'Italia, addirittura fondata già nel 1820 per l'intervento dei Borboni. Quindi una scuola nautica che nasce a riposto assieme alla Scuola del Commercio e entrambe le istituzioni, quindi l'ITTL, Rizzo e l'Edoardo Pantano, che sarebbe l'Ite, l'Istituto Tecnico Economico, che rappresentano tra le istituzioni più antiche nate a riposto. Accanto a questi due istituti prestigiosi e datati, questa scuola vede anche l'ITCAT, quindi quello che una volta veniva comunemente chiamato geometra e che adesso assume la denominazione di Costruzioni Ambiente e Territorio. È una scuola molto importante, anche questa datata e prestigiosa, che ha vinto premi importanti anche a livello nazionale per aver avuto i campioni dell'autocad. Devo dire che ancora oggi, nonostante l'indirizzo a livello generalizzato non ha più quell'appeal che aveva in passato, devo dire però che noi riceviamo spessissimo richieste da parte di aziende che vogliono segnalati i nomi di ragazzi, di studenti che conoscono l'autocad per poterli assumere e quindi impiegare nel mondo del lavoro. Accanto a questi tre indirizzi anche l'IPS, Istituto Professionale Olivetti, che si occupa di servizi sociosanitari.